Hello my darling friends, benvenuti al mio YouTube channel, sono Crystal, vostra dating coach, vivo qua a Milano, Italy. Married men, uomini sposati, sette ragioni per non frequentarli. Io non ho mai fatto, non ho mai fatto e non farò mai, e non perché sono una santa, non sono una santa. Sono una donna che mi ama, mi ama e voglio un uomo che mi dà amore a 360 gradi, non 50 o 80. Prima ragione, contatto. Una volta che vostra cena è finita, vostro weekend insieme è finito, tu non puoi contattarlo. Non puoi più contattarlo domenica, feste, perché lui è con sua moglie, è con sua moglie. Deve aspettare che lui ti chiama. Deve aspettare sempre che lui ti chiama, che lui organizza ogni vostro appuntamento basato sul suo tempo libero. Due. Perché è sposato? Con quale ragione è ancora sposato? Non vai d'accordo più con sua moglie, dici di amarti, si lamenta, le cose non vanno bene. Perché è ancora sposato? Con quale scusa usa? Perché con i bambini piccoli che deve aspettare che crescono non funziona più. Perché ovviamente adesso sono tante persone divorziate con figli che crescono benissimo con genitori divorziati. Perché è meglio, è meglio di vedere mamma e papà che litigano, gridano, urlano. O magari mamma e papà che non danno mai un bacio, un sorriso. Allora quella scusa non funziona. Ma noi donne soffriamo per amore. Noi donne facciamo scuse. Ma i uomini no. Sappiamo uomini no. Se lui non è contento e non stai più bene con sua moglie, aveva fatto la valigia, andato, ciao ciao, bye bye, sayonara, ma sei ancora lì, vuol dire che stai bene così. Quella situazione va bene a lui. La moglie, la stabilità, casa, qualcuno che lo conosce bene, è in te, l'amante, che si diverte, che è una cosa nuova, e trova questi momenti e avventure belle con te. Stai bene in questa situazione. Tre. Non deve pensare mai che tu sei meglio di sua moglie. Lui l'ha amata, l'ha sposata, no? Magari in chiesa, con la famiglia, amici presenti. E perché tu pensi che un domani sarai fedele a te? Lei, adesso, sua moglie, lo stai tradendo con te. Ma invece una volta con te sarai bravo, fedele, non guarderai mai un'altra donna. Io non penserò mai così. Io non penso di essere meglio di sua donna, di sua moglie, la donna che lui è sposata. Come stai trattando lei, un domani tratterai anche te. Non deve pensare che sei meglio della sua moglie. Uomini sposati sono di bugie, di bugiardi professionale. Bugiardi professionale. Perché ogni volta che lui è con te, ha detto bugia a sua moglie. Ogni volta che voi andate fuori a cena, rubare i momenti di felicità, lui ha detto bugia a sua moglie. Guardandole dritto nell'occhio, perché le donne non sono stupidi. Allora, ha chiesto al suo marito, ma tesoro, tu dove sei stato dopo il lavoro? Io ti ho chiamato, ti ho cercato, mi ha detto che sei andata a vivere se le sei. Come mai sei a casa così tardi? E lui, guardandole dritto nell'occhio, direi un bugia. Sai, ho avuto dei clienti dopo il lavoro, ho dimenticato di dirti, ho avuto dei impegni, dei puntamenti, ho avuto delle cose da fare, e per quello sono in ritardo. Bugia. Non una volta, non dici volte, cento volte, ogni volta che voi siete insieme, lui deve dire un bugia a sua moglie. Perché può fidare di lui? Come può fidare di questo bugiardo professionale? È bravo a dire bugia. E domani perché non devo dirgli a te? Allora, anche pellicoloso, numero cinque, pellicoloso. Perché tante donne non prendono molto bene che i loro mariti lo tradiscono. si arrabbiano. Si arrabbiano. È molto. Diventano molto incazzati. E non prendono con i loro mariti. Ah, ah. Prendono con te. L'amante. Ti trovano. Ti cercano. E sono pellicolosi. Leggiamo tutti e due il giornale, quello che fanno tante donne all'amante dei loro mariti. È pellicoloso. Numero sei. Allora, è andato tutto bene? Hai convinto? Hai convinto a lasciare la moglie? Ti ha dato retta? Intanto, non avevo più scuse. Ha ragione. Non vado più bene e con mia moglie non c'è più intimità, mi annoio, non andiamo d'accordo, lei non mi capisce. Alla fine, si separano, si divorzano da loro moglie. E vanno con te, sì. Vanno con te. Prendono una casa insieme, magari un appartamento, e inizio la vostra bellissima vita di coppia. Voi due insieme. Passa sei mesi, otto mesi, magari anche un anno, e loro dicono, ma perché ho lasciato mia moglie? Sto facendo la stessa vita che faceva con lei. Andiamo a fare le spese, mangiamo insieme in solotto, guardiamo un film su televisione, e sono annoiati. Annoiati, perché non c'è più quell'avventura, quell'excitement, cosa bello, cosa nuovo, che si divertivano con te, no? Gli uscivano con te momenti rubati. Non c'è più tutta quella cosa. Con te la sexy amante, adesso sei loro donna. non sei sempre truccata, vestito sexy, sempre a top, no? Ti trovano a casa, a volte in pigiama, sento trucco. E loro cosa fanno? Tornano da loro moglie, perché sentono un po' anche corpevole. dico, perché ho lasciato mia moglie? Sto facendo la stessa cosa con lei che facevo, con mia moglie. Una donna che mi ha conosciuto, mi conosci, mia debolezza, tutto di me, è cresciuto con me, io torno da lei. E tornano con loro moglie. il settimo ragione che questo ti ti sorprenderà. Lasciano loro moglie, sì, lasciano loro moglie, tu l'hai convinta, hai fatto ragionare, perché sto ancora con mia moglie, non la voglio bene, non l'amo più, non va niente bene in casa. Sto bene con te, sto bene con te, ti voglio bene, voglio iniziare una vita con te, mi divorzio. e ti divorziano. E sono di nuovo single, single and ready to mingle. Sono single, non hanno più le fedi sulla ditta, sono liberi. E adesso, quando sono in giro, in ufficio, quando vanno a un bar, quando sono con gli amici, le donne lo guardano diverse, no? Le donne, come me, che non ho mai stato con un uomo sposato, lo guardano, perché loro sono single, non hanno più la fede sulla ditta. Sono single, liberi di frequentare chi vogliono. Non te o le donne come te che accettavano di stare con un uomo sposato, che anche lui, sai, è difficile trovare. No, 20-20, è difficile trovare una donna che si casca con un uomo sposato. È libero adesso, è libero. Incontri nuove donne e c'è qualcuno che incontro che lui piace, una donna che lui piace. E cosa fa? Lascia te. Ti lascia e inizia una nuova vita con questa donna che non ha conosciuto quel uomo sposato, quel uomo meschino. No, ha conosciuto un uomo libero. Ecco il sette ragioni perché non deve frequentare mai un uomo. Trovati un uomo libero, single, un uomo che può amarti 24 ore, 7 giorni a settimana. Un uomo libero. non un mascazione con la moglie e frequenta te. No, un uomo libero. Amare te stesso. Lascia stare uomini sposati. Mi raccomando, ama te stesso perché tu vali e tu puoi trovare un uomo single. Non è facile. Non è facile trovare un uomo bravo, in gamba. Io lo so, ma niente che vali è facile trovare, no? Un buon lavoro, un buon appartamento, un bella casa. Le cose che valgono, che sono importanti, sono difficili trovare, ma vale la pena. Allora, se è piaciuto questo video, condividere con le tue amiche. Subscribe, iscriviti e noi ci vediamo presto. Ama te stesso perché tu vali.